Aronne, il numero 48, il numero 48, dov'è, dov'è Aronne? Facciamogli un applauso, chiediamo, eccolo qui, della categoria M70, eccolo qui, abbiamo parlato abbondantemente prima, insomma il grande veterano, complimenti, complimenti, sul podio, e beh ci sta no? No? Per facciamogli un altro applauso, e c'è Orazio che lo insegnisce con questa medaglia, devo dire, meritatissima, fatevi questa bella foto.